Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una garanzia. Ho poi alcuni punti specifici su cui mi voglio impegnare. Si parla di sanità e di famiglia, ebbene, rimborso ai ragazzi inferiori di 14 anni di tutti i ticket sanitari. Un vero sostegno alle famiglie, tutte le famiglie, anche quelle di fatto. Sostegno ai genitori separati, perché spesso fanno alle menze della Caritas. Nessun rimborso pubblico che non sia legato alle elezioni. I partiti durante i loro 5 anni di mandato devono poter vivere da soli. Togli e riprioreggia gli antireligiosi. Roma è una bellissima città, c'è grandissimo turismo religioso. Peccato che investano soldi pubblici e poi privatizzino i profitti. L'ultima cosa importante è il vincolo paesistico. Noi abbiamo un territorio che stiamo letteralmente consumando, vogliamo smettere di consumarlo con nuovi vincoli e vogliamo nuove regole per la gestione dei rifiuti. Se vuoi un Lazio a colori, vota Radicale, vota Lista Amnistia, Giustizia e Libertà, vota Alessandro Massari.